Miei Grazie Buona? Sì. Buona. Tu papà ha parlato del tema della musica? Cattaria? Sì, lo sento. Lo sento? Sì. 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 Deiando nel sentito molto. Non so. Sì. Ma te adesso a parlare al nesto, amora- No, va! E te devi parlare al регlні, non sì? È 전에 puoi andare sotto dal mien e se. No, ma devi mettere in più dentro della t da? Qua te metti veramente una Ih, non la tua già. Lo sai sei, la tu зda, e però, io tento, non la soite guardano. ng kolme ponderse di, è alla lì, non i tene. Ma anche sì. Oh no, non la soite faccio, verte che mi importa a me? come le fattano? in serio? si me ubica ubica in la buona si me no? comparte tu musica con la mia in serio? si me, non può faltare la musica buona a me va a dire il tutto ai no 2 temi del turco pubblico y ya to' oh mami yo que no me voy a ir con mi esa amiga olvide que me va a dar la tura no, no puede ser si me lo sienten hace lo mismo la llamo, la llamo chica chicas viejas copadas juntad urgente en mi casa este mes del cumple en el asilero urgente la llamo la llamo la llamo la llamo la llamo no se era negro no, no, un audio de Gertu a ver que dice si Gertu, ya ha salido por allá en 5 minutos estamos en tu casa la llamo va a ver si Eva porja chicas Gertu, Gertu estas apurada? ay, voy, voy hola Gertu, si que iraportuna Gertu ah, voy voy ay Gertu Gertu, Gertu Questa è la curata! Vamo, piquemmo! Vamo, piquemmo! Ehhh, come lo chiamati! Che cazzo? Che cazzo? Che cazzo? La chica lo chiede da Safia? Non può fallare per gli altri, non può fallare il tempo... No, non può farlo, non può farlo, non può farlo. Nella polizia dove avvolare! Si è sempre visto. Tura così. Di una copia si è molto più, sì! Per la vita è il tuo corpo! Oddio! Perché vabbiamo il movimento! No siamo un'altra epoca! Vabbiamo l'amia, abbiamo una carta da bocca abiertas! Si! No! Vabbiamo! 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 Que no se miroca! Chica! Mi vieja quiere poner musica del mio dio della mia. Del mio epoca. No, no chica. hai che mostrare come va a andare venganse già al salone miro io già ho parlato con i miei amici io anche ho parlato con i miei amici io anche ho parlato con i miei amici sai che? questo lo solucioniamo in una pista di bai, sì, no? bene, come vuoi prima della festa lo solucioniamo bene, bene Ehi chai chiqui questa tiene un culo pa' la montagna ja 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 pulite me cosare e歸 su mano al cabo su mano al cabo si pono al probo ehi se pune un culo pa' notare un cachetete baila qui a tomati si pones reggete un culo pa' notare un teoto baila qui a tomati i da se pones pe cosare e non ti è una gira che c'è una gira che c'è la pa' la cena una gira Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.